Buongiorno a tutti, siamo a poche ore dalla cerimonia inaugurale allo Stadio San Paolo dell'Universia di 2019, Napoli 2019 e la città è pronta ad ospitare l'evento, la città è molto pronta, abbiamo fatto come si direbbe i compiti a casa per bene, abbiamo fatto tutte le attività da tempo, è una delle esperienze che ricordo in questi anni di duro lavoro e di difficoltà, quella per la quale ci siamo programmati per tempo, io chi mi conosce, sindaco in testa, sa che uso ricordare la non coniugazione di due verbi a Napoli, il verbo pianificare e il verbo programmare, invece incredibilmente questa esperienza delle università rappresenta un caso eccellente di scuola in cui siamo riusciti a programmare, a pianificare per tempo tutte le attività, però stamattina vorrei con il permesso del sindaco ricordare che la vera nostra sfida l'abbiamo già vinta in tutto, io non sono un grande frequentatore anzi per nulla di social e di termini vari, però userei un hashtag noi abbiamo già vinto, questo mi permetterà il sindaco, abbiamo veramente già vinto, perché la città attraverso questo duro lavoro di pianificazione e di programmazione è riuscita in questi mesi di duro lavoro a lasciare una legacy, come si direbbe in linguaggio internazionale, senza precedenti. Noi siamo sempre stati fautori, sindaco in testa degli eventi, gli eventi rappresentano sviluppo, rappresentano attrattività, rappresentano immagine positiva, rappresentano ricadute anche e in particolare di ordine economico e noi abbiamo sempre affrontato la gestione degli eventi con questo spirito, a cominciare dalle stagioni della vela e della Coppa America, a cominciare dallo spettacolo che veramente con gioia vediamo riprodotto, lo stadio del tennis alla rotonda Diaz che vedete ora riprodotto analogamente alla stagione della Coppa Tennis e un'idea dell'amministrazione comunale di Napoli che siamo riusciti a riprodurre e che è ancora nell'immaginario del tennis di tutto il mondo. Uno spettacolo straordinario. L'hashtag abbiamo già vinto, però se la regia nostra modesta ce lo fa vedere, è rappresentata da un video dove ci misuriamo con i risultati dei nostri impianti cittadini e qui torniamo al concetto di legacy, ma prima della legacy strutturale io vorrei avere la possibilità di ricordare a tutti i presenti di far vedere un paio di fotografie emblematiche e da voi vorrei con il permesso di tutti iniziare. Abbiamo delle foto che vi prego, foto semplici, non c'è niente di clamoroso, non vi aspettate nulla, ma sono lavori alla sede stradale alle ore 0-3 della notte e alle ore 11 del giorno con 40 gradi centigradi, sono lavoratori comunali e poi vorrei invece passare a una foto che riservo con, se vai un po' più avanti, finito lo stadio San Paolo, c'è una foto che serbo nel cuore che ho fatto e che voglio in qualche modo poter condividere. Prima dello stadio del Pala Barbuto. La narro, così può essere che ci riusciamo, è una foto bellissima di tutti gli operai dell'Associazione Temporanea di Imprese, Graded, TPS e Mondo, sono una squadra di operai che nell'arco di circa due mesi hanno smontato più di 60.000 sediolini, hanno riqualificato l'invaso dello stadio San Paolo e incredibilmente ne hanno rimontati altri 50.000. È un'operazione che veramente merita il plauso e merita la considerazione di tutti quanti noi. Sono operai, sono operai di più imprese private che hanno lavorato allo stadio San Paolo che sarà il nostro fiore all'occhiello. Pianificazione e programmazione di lavoro da parte dell'amministrazione comunale, lo ricordo, il progetto sottoscritto dai tecnici della nostra amministrazione, direzione dei lavori attuali, responsabile e unico del progetto e direzioni tecniche e operative, tutte governate da tecnici funzionari, dirigenti e funzionari tecnici dell'amministrazione comunale. Questa è la legacy di cui parlavo. Le universiadi e il grande evento ci consente di poter rinnovare e riqualificare l'intero parco delle attrezzature sportive della città. Non esiste, ai noi, il Sindaco lo sa bene, tutti quanti noi l'abbiamo imparato in questi anni di duro lavoro, non esiste in misura di finanziamento che va verso gli impianti sportivi. Questo neanche europee, ovviamente, non ci sono fonti finanziarie. L'Europa non finanzia gli impianti sportivi, perché in una logica internazionale ed europea l'impianto sportivo deve essere a gestione e a finanziamento comunque del privato. Quindi per queste ragioni le misure ordinarie con cui finanziamo tanti interventi anche nella nostra città non possono essere indirizzate verso gli impianti sportivi. Quindi la politica dell'amministrazione dei Magistris è stata molto chiara da subito. Non potendo destinare soldi sottratti dal welfare e destinati a riqualificare una palestra o sottratti dalle indicibili esigenze nostre finanziarie, abbiamo sempre atteso e affiancato e motivato al massimo ogni iniziativa che potesse portare un evento che comprendesse la riqualificazione della nostra impiantistica. Ci saremmo organizzati in maniera travolgente nel caso in cui la città di Roma avesse portato le Olimpiadi. Ricordo con il Sindaco un incontro anche con il Presidente del CONI per candidare il nostro pezzo della vela a mare e il nostro pezzo degli sport equestri per le Olimpiadi, più o meno in linea con la tradizione che aveva già visto Roma nel 1960. Questo non è stato e quindi appena si è manifestata l'opportunità delle universiadi noi ci siamo misurati in maniera… ecco la foto, un applauso a questi signori, ci tengo tantissimo perché in pochi mesi neanche, perché vi ricordo e qui ci sono molti giornalisti che ne hanno fatto la versione tutto il calcio minuto per minuto. Dopo la partita Napoli-Inter abbiamo fin anche fatto svolgere regolarmente la partita Napoli-Inter e poi da quella data abbiamo ribaltato lo stadio San Paolo come un calzino. 60.000 sediolini via, riqualificazione dell'invaso, 50.000 sediolini nuovi con tutta una serie di attività di riqualificazione. Naturalmente lo voglio ricordare perché ieri che mi è capitato di avere un assaggio della cerimonia inaugurale di domani nell'ultima prova, ho visto lo stadio con un impianto acustico, un impianto di luci e uno scenario che è veramente, sarà perché il mio cuore è brutalmente azzurro, però devo dire è veramente uno scenario straordinario. Infatti ho chiesto al Presidente De Laurentiis di vincere perché in quello stadio ora si può solo vincere, perché non è possibile avere poi tanta disponibilità, tanta organizzazione, tanta efficacia e poi avere dei risultati più in avanti non eccellenti. Detto questo quindi la legacy è fatta di impianti che la città avrà completamente riqualificato. Ci concentriamo ovviamente tutti quanti sullo stadio San Paolo dove sono stati investiti 27 milioni di Euro nella sua complessità, questo alla presenza del Sindaco lo voglio ricordare perché molte volte anche molti giornalisti qui presenti hanno ricordato la polemica del noi dovevamo riqualificarlo, ma oggi con tutta questa presenza mediatica, voglio dire, ma potevamo mai noi scegliere tra fare un mutuo di 25 milioni a carico dei cittadini napoletani e invece andare verso il finanziamento delle università? Ma ci avrebbero dovuto prendere col forcone se avessimo fatto una scelta di aprire un mutuo? Noi abbiamo fatto esattamente quello che era nelle previsioni più logiche, abbiamo evitato un mutuo a carico dei cittadini napoletani che andasse quindi a rinforzare il nostro indebitamento e abbiamo invece utilizzato le risorse della Kermess che in qualche modo è stata portata in questa città, mi sembra la cosa più naturale del mondo. È come pensare alle Olimpiadi, Londra 2012 e poi il governo londinese che non finanzia Wembley, cosa che è ovviamente accaduta così come in qualsiasi altra Kermess di questa portata. Quindi lo Stadio San Paolo è un investimento totale che non è completo perché noi abbiamo subito dopo le università, completeremo la parte spogliatoio, la parte degli spogliatoi e delle palestre sottostanti, quindi riqualificheremo anche quello spazio, avremo altri interventi, completeremo la riqualificazione dei bagni, lo Stadio sarà perfettamente a norma come bagni disabili, bagni a disposizione dei fruttori dell'impianto e nelle migliori condizioni. Come abbiamo più volte ribadito, lo Stadio sarà portato a livelli di assoluta fruibilità in linea con gli standard europei. Ma lo Stadio San Paolo è solo il nostro fiore all'occhiello perché il vero risultato, la vera legacy che le università per noi hanno rappresentato e hanno significato e per cui lo ricordo, noi abbiamo già vinto, è la riqualificazione degli impianti cittadini importanti. Abbiamo visto resuscitare il Palavesuvio, invito tutti quanti ad andare al Palavesuvio che è l'impianto che ospiterà perfettamente attrezzato, i due impianti del Palavesuvio perfettamente attrezzati per l'occasione e sono resuscitati, in particolare quello inizialmente destinato all'atletica indoor, sono completamente resuscitati dalle macerie, compreso un importante intervento di riqualificazione straordinaria della copertura dello stesso Palavesuvio. Qui non vedo ma ci sarà sicuramente il nostro architetto responsabile di questo intervento, se per cortesia gli possiamo fare un applauso perché più fa la visura è il nostro architetto Genia Campo, prego fatti vedere il sindaco, sono donne dell'amministrazione, ovviamente tutti i progettisti degli impianti di differenza del San Paolo sono solo donne, questo ne va della nostra capacità assolutamente anche tecnica della nostra componente femminile che è fondamentale della nostra amministrazione e il Palavesuvio veramente sarà un impianto destinato a gestire sport per la città in un quartiere difficile, in un'area che sicuramente ha fame di sport, noi abbiamo restituito impianti di questo tipo. Nel video ci sono le immagini destinate agli sport acquatici, noi restituiremo la piscina della mostra d'Ottremare che verrà per l'occasione destinata ai tuffi, credo che se non si possono e si possono godere la nuova palestra per i tuffi, quella della piscina della mostra d'Ottremare, ma il vero fiore all'occhiello sarà la piscina Scandone, è la piscina Scandone che viene restituita a uno splendore inaudito, perché è sempre stato un impianto natatorio di tutto rispetto, ma ora è certamente, lo possiamo dire con orgoglio, l'impianto natatorio importante d'Italia. Questa piscina è stata realizzata in pochi minuti, anche qui vorrei un attimo vedere l'architetto che non è ancora arrivata perché ovviamente sta lavorando e quindi l'architetto Simona Fontana che ha progettato al di là dei lavori della piscina Scandone, fantastici, compresi i lavori dei giochi di luce e di intrattenimento che hanno consentito alla piscina Scandone di essere poi individuata dall'organizzatore della Champions del nuoto come sede per la Kermess italiana che verrà effettuata nel mese di ottobre di quest'anno, quindi la Scandone sarà sugli scudi ancora una volta per la Coppa Campioni Planetaria del nuoto ad ottobre, anche con giochi di luce, un'attrattiva, uno spettacolo unico, ma il fiore all'occhiello è la progettazione di quella piscina per il warm up che è una realizzazione ex novo, quindi è stata realizzata in tempi straordinariamente record, è la piscina che serve per rendere la Scandone a questo punto definitivamente il più importante impianto natatorio italiano pubblico, perché il warm up chiaramente consente agonisticamente di sviluppare una serie di gare e di essere competitiva agonisticamente. Infine voglio ricordare, abbiamo restituito alla città un impianto gioiello come il Palabarbuto, con cui abbiamo combattuto in questi anni per avere 100 posti, 150 posti, abbiamo fatto fatiche di sisifo per far giocare con la compatibilità, palagibilità, i vigili del fuoco più di 100, ora è un impianto perfettamente rinnovato, ospiterà le discipline degli sport come la palla a canestro e poi verrà destinata per questo uso, quindi restituiremo alla città, nell'emore della riqualificazione e della realizzazione che l'amministrazione sta governando del nuovo palagento, perché anche questo è un obiettivo che l'amministrazione si prefigge, nell'emore il Palabarbuto sarà l'impianto di palacanestro di sport di squadra indoor più importante della città. Accanto al Palabarbuto e al Palavesuvio e alle piscine e allo stadio San Paolo che abbiamo ricordato, ci tengo perché la legacy è fatta anche ed esclusivamente di quello che resta alla città, la legacy che abbiamo prodotto è la riqualificazione degli impianti di calcio cittadini delle periferie, dotati di spogliatoi, di luci, dalla Scarelli, dai caduti di Brema, sono tutti impianti che vengono riqualificati per l'occasione. Naturalmente aggiungiamo il Virgiliano come campo riqualificato e tutta una serie di impianti, anche lo stadio Collana che seppur non è di proprietà dell'amministrazione comunale, però è un impianto pubblico su cui ci siamo battuti per avere Sindaco in testa una riqualificazione anche per l'occasione e anche altri impianti come lo ricordo anche stato un impegno nostro all'interno dell'Agenzia regionale, il campo di rugby recentemente riqualificato all'interno della struttura dell'ex Collegio Ciano che è un altro risultato per noi molto importante anelato dalla Federazione Italiana Rugby da tempo. In sostanza e in soldoni la Legacy ha prodotto circa 70 milioni di Euro che noi abbiamo realmente impiegato e speso per le esigenze delle attrezzature sportive della città. Questa è la Legacy, questa è l'eredità, caro Sindaco, che le universiadi lasciano alla nostra città e ai nostri concittadini. Accanto agli impianti sportivi, devo dire e questo me lo consentirai e veramente mi taccio, abbiamo fin anche stamattina, abbiamo avuto anche l'occasione per, e voglio ringraziare il contributo che in questi giorni e nei giorni e nei mesi precedenti hanno dato le strutture dell'amministrazione comunale. Abbiamo una cabina di regia mattutina che mette insieme tutti i responsabili dei vari settori, vedo anche i consiglieri Gaudini e Vernetti che partecipano nella loro qualità di Presidente della Commissione Ambiente e Protezione Civile alla nostra cabina di regia e abbiamo lavoratori che si sono battuti e si continuano a battere in questi giorni ai quali io devo necessariamente dare tutto il mio pauso e se mi consentite anche tutto il mio orgoglio per l'appartenenza. E' gente che sta lavorando solo a 40 gradi di fare night direi quasi, sta lavorando di giorno e di notte, sta lavorando sulle ordinarie disfunzioni di una grande città complessa come la nostra, tagliando dal ciuffo d'erba alla pulizia, Ciasia, Napoli Servizi, ovviamente per la Kermes le pulizie degli impianti sono a carico dell'amministrazione comunale, dentro con la Napoli Servizi e fuori con la nostra Sia. Abbiamo a terra LSU che ringrazio particolarmente, la cooperativa 25 giugno, Napoli Servizi per le pulizie, Napoli Servizi per i PIS, abbiamo curato tutto anche con il servizio strade che ovviamente devo particolarmente ringraziare perché non ci dimentichiamo che tra le cose della legacy che lasciamo abbiamo fatto oltre 8 km di strade centrali in due mesi, anche questo è un altro tema che dobbiamo ricordare, abbiamo sofferto in particolare su quello che ho chiamato il triangolo delle Bermude di Marchese Campodisola, De Gasperi e De Pretis, però abbiamo lasciato un triangolo decisivo per la nostra viabilità che la ricordo è tra le più complesse, sono due strade, via Marina e il corso Vittorio Emanuele, non c'è altro e tecnicamente abbiamo riqualificato per l'occasione abbiamo riaperto anche il nodo scorsoio, lo ricordo perché vedo che traspare Luigi Roanno che il mattino ce l'ha ricordato come un tema negli ultimi due anni, abbiamo anche eliminato e tagliato definitivamente il nodo scorsoio di via Marina e quindi anche via Marina per l'occasione è aperta e funzionale. Quindi un ringraziamento veramente agli uomini, alle donne e agli uomini dell'amministrazione comunale che si battono ogni giorno per offrire alle migliaia di cittadini del mondo la migliore condizione e la migliore accoglienza della nostra città. Grazie.